Siamo io e Stefani in auto, Stefani si spara un bel succhetto, andiamo a far controllare l'auto prima di partire per la Calabria, un po' d'acqua, un po' di olio, è una controllata generale normale, tanto si sa che se si deve scassare l'auto rompere, se rompo stessa, più per far star tranquilla le donne, se no dicono, hai visto ti avevo detto di andare a controllare l'auto, quando se la vai a controllare sarà un busto questo, però almeno abbiamo l'alibi che abbiamo fatto controllare, almeno non ci possono scassare, Stefani sta su quanto? Oggi è una giornata di sole, caldissima, come dicevo presto si parte per la Calabria ragazzi, quindi dei vlog calabresi, devo imparare un po' di calabrese, non so come, non mi piace questa cosa, vai Calabria, non so, oggi diciamo YouTube sta facendo un po' di problemi a caricare i video, è proprio lento, porta problemi, poi un problema mio con i video mio, perché i video di alta qualità, quando fate dei video che superano i 5-6 minuti, 7 minuti, a volte arriva addirittura un gigabyte, caricare un gigabyte, credetemi, a volte lo lascio, a volte la notte lo trovo in mattina 8-9 che sta ancora caricando, il bello è che poi se si interrompe, tutto da capo, quindi a volte preferisco dei video di 3 minuti, 2, 4 massimo, perché caricarli diventa una missione impossibile, una cosa proprio esagerata, un caricamento proprio che ti estenua, un po' proprio cacchio, quindi non ti fa voglia di caricarla una cosa così troppo lunga, che poi ti blocca il computer per tutte le ore, per molte ore, quindi diventa una cosa estenuante, speriamo che in Calabria c'è il wireless in questo posto, dove andiamo, così almeno posso continuare a caricare da lì, ogni volta mi devo fermare e poi caricarli, c'è la polizia, mi rompe coglioni, scusate, non volevi filmare una multa di merda, è lì la polizia, lo so, polizia scampata, molto scampata, cucù la polizia, non c'è cucù giustamente, quindi faremo dei vlog da lì, sella, non so come si chiamano, ogni volta marina, non mi ricordo, stella marina, ma non è stella marina, sierra marina, sella marina, faremo, molto carino, hanno detto, quindi faremo dei vlog da lì, ci divertiamo un po' da là, poi è finito, buone vacanze a tutti, buone vacanze a tutti, ti fa ridere, ti fa ridere Stefano Nicolic, eh? Ti fa ridere? Vuoi dare un succo a chi? A me? Stefano, dobbiamo assolutamente diastasita, papà, ti ha parlato già troppo stamattina, forse, andiamo, ciao, non mi impipicchia, ma andiamo a buttare, lo metto qua, sto succo di frutto, è finito, comunque che fai? È finito, come dai? Scusa, ok, arrivederci signori, eh? La prolega!